Una miternina falcidiata da squalifiche e infortuni subisce la seconda sconfitta consecutiva e vede nero per il futuro a causa di una rosa troppo corta e un attacco spuntato dove né Lukas Lennart né Rotario riescono a non far rimpiangere lo squalificato pedalino. Tutt'altro stato d'animo tra le fila del Celano che coglie la sua terza vittoria consecutiva e si porta ad un passo dal dodicesimo posto, utile per evitare la lotteria dei play-out. Primo tempo da sbadiglia al fattore di L'Aquila con la miternina poco incisiva e dal ritmo basso al cospetto di un avversario molto ben disposto tatticamente, ordinato e attento in ogni occasione. Gli uomini di Angelone provano da lontano in due circostanze ma prima Berardi e poi Lennart colpiscono male e mandano altissimo. Il Celano si vede al 39esimo quando sugli sviluppi di una punizione laterale la palla è respinta dalla difesa e Marfia calcia al volo di sinistro ma non riesce a tenere basso il pallone. I primi cinque minuti della ripresa sembrano ricalcare quanto visto nella prima frazione ma al sesto la miternina combina la frittata. Di Francia da Valente che a causa di un rimbalzo beffardo non trova la palla, se ne impossessa Valdès, approfitta dell'uscita quanto mai avventata di spacca e deposita nella porta rimasta inesorabilmente sguarnita. Gli scoppitani non ci stanno e vanno vicini al pari con un'incursione sulla destra di Bordi che all'altezza dell'area di porta trova Rotario la cui deviazione è intercettata sulla linea d'area che salva il vantaggio. I padroni di casa si riversano generosamente in attacco e al minuto 23 Gizzi è bravo a girarsi ma calcia debolmente e centralmente per la facile parata di Nutricato. Trascorrono 5 minuti e Giallorossi nuovamente da fuori con Berardi ma il diagonale è impreciso. Il finale è rocambolesco, al minuto 91 Miternina vicinissima al pari con Di Francia che in mischia vede il suo colpo di testa stamparsi sulla traversa. Trascorrono 30 secondi ed il Celano è nuovamente cinico in contropiede con Lazzarini che parte da dietro la linea di centrocampo, supera spacca fuori aria e deposita in fondo al sacco per la gioia dei 100 supporters celanesi al seguito della squadra. Alla Miternina non manca l'orgoglio e prova la via del gol al quarto minuto di recupero ma a Berardi il portiere marsicano si oppone con una grande parata. Finisce con una parapiglia fra giocatori di entrambe le squadre ma tutto torna alla normalità senza conseguenze. Ora occhi puntati al mercato, la Miternina porterà a scoppito tre giocatori, uno per reparto per rinforzare una rosa che dopo gli addi di Onesti e Molinari e la lunga serie di infortuni sembra essere diventata assai meno competitiva. Avevamo lavorato in settimana sapendo che loro è una squadra che sfrutta molto il contropiede e ci siamo messi al pari di loro e abbiamo cercato di sfruttare noi questa arma. Le ultime tre partite nove punti, un Celano che da quando è in mano a Morgante vola. No, no, non è da quando è in mano a Morgante. La squadra ha capito che doveva cambiare registro altrimenti era dura. I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare. Purtroppo sono assenze di peso e alla lunga si pagano. Magari riesci a fare buone giocate, buone prestazioni però alla fine quando hai una panchina piena di ignores che non puoi fare i campi importanti per cambiare la partita, nell'arco di 90 minuti queste assenze si pesano. Ripeto, nell'emergenza di cui al più presto, anche col mercato che domani si apre il mercato, quindi speriamo di venirne fuori al più presto.